Sicuramente è stata dura, molto dura, giocare in inferiorità numerica, così contro una delle migliori squadre al mondo. È molto difficile, molto dura. Abbiamo cercato di adattare il piano di gioco alla situazione, cercare di renderci le cose più semplici possibili, perché purtroppo nel rugby capita anche questo. Da fuori sono sicuro che i miei compagni non hanno mollato fino alla fine. Non abbiamo mollato mai. Ripeto, contro queste squadre in una situazione del genere è difficile uscirne, però queste cose ci fanno crescere come gruppo ed è nelle difficoltà così che il gruppo si unisce ancora di più per costruire quello, perché ci alleniamo tutti i giorni, perché analizziamo tutte le partite, per cui ci facciamo un culo così tutti i giorni, quindi arriverà il nostro momento. Come ho già detto, nessuno dei miei compagni ha mollato fino alla fine. Sono orgoglioso di tutti i miei compagni. Ripeto, è una situazione così difficile. Bisogna metterci il cuore, bisogna buttare il cuore avanti e serificarsi per la maglia e per i tifosi, quindi il carattere non è mancato. Purtroppo abbiamo avuto un po' di sfortuna, però credo che nelle prossime partite sistemeremo alcune cose e ce la faremo. Grazie. 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 Grazie.